Ueh! Mmm! Aspetta, questa... Oh, oh! Sto per farla cazzata, questi mi vedono anche se... What the... Oh, salto, salto! Ok... Oh, ok! Devo salire, stile Mirrose Edge, eh! Ma come per... Così? No! Come minchia, salgo! Wow, ma cos'è Tomb Raider in confronto? Roba qui, roba no... Stock, stock, miau! Porta la gratta con me... Aspetta... Non c'è motivo di andare di là, quindi... Yuppidoo! Aspetta... Se io tipo... Scendo... Patrone salire, no? Ok, erano due metri... Erano praticamente due metri, come hai fatto? Perché mi ha ucciso? Oh, ti sei mosso... Ti muovo giù... No, non è il caso... Arma silenziosa, arma silenziosa... Giù! No, non è il caso... Il dato è usato... Il dato è usato... Beh... Il punto di vista di Perseus era di trainare telepathici comandanti per lavorare con soldi con clonini. anche se sembra che Paxton Fettel era l'unico comandante del programma l'unico vero è che si riferiscono in questo prototipo il secondo di qui, di qui, ok ah cazzo aha bitch e con questo ci saluti wow 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 io non ho fatto niente cosa è appena successo? allora ma 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 no ok faccio il giro tippe 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 uccellino lo uccido si eccomi qui corro allegramente mi metto giù ora si due li secco così normalmente così non spreco bombe dove cazzo vai? dosso al muro coglione mi serviranno questi vabbè faccio il giro capito oh oh yes ah i barilli della della fede bitch ottimo via via ah sei anche cluso tu nel pacchetto? aspetta forse adesso la pistola mi fa comodo se solo ne trovassi un'altra ritiro quel che ho detto da qua aspetta c'era un'altra un'altra strada ho sprecato un medikit quei barilli messi li che cazzo dici? che cazzo dici? wow 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 pezzo di mer... da si ma chi se ne frega di di Jokoski francamente ha rotto il cazzo che cazzo dici ma le tetti ma le tetti aspetta girando dove sei andata? what the fuck stai buono c'è la roba qui no? no io sono arrivato da qui da alla cieca quello può interessarmi aspetta girando di come si sa mai che mi esplodano in faccia mentre faccio il cretino Devo salire a prendere Quell'algeggio No Infatti, sì Più avanti lì c'era il checkpoint Qua devo salire a queste scale Per prendere il bonus Vero? Vero Apriti Quanta roba Ora sì No, no Ora sì che mi son perso però Allora No, io son venuto da L'ora Di là si va a prendere il bonus Di qui si sale sul tetto Tutto carico Che? What? Oh? Oh Wow 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 Pericolante